Bentornati sul canale di Sevilla Fcarena per un nuovo video, siamo sulla bestia ardente che finalmente è arrivata qui in realtà vediamo il capitolo 24 ma questa è un'altra storia signori, uscirà a breve la guida anche dello stage 23 e 60 e con un pochino di climbing me lo sto tenendo appunto per voi quindi siamo qui per la bestia ardente e vi farò vedere una team comp con cui ho fatto 100 campanelle le avevo detto insomma che ci saremmo rivisti per l'uscita sull'official in realtà 100 campanelle poi le ho fatte anche sul test server con una team comp abbastanza simile però eccoci qua, possiamo vederla anche così invece di stare a utilizzare i replay che questo è molto meglio, come vedete ho utilizzato Wukong, Rosalind Baden, Rowan e Elijah e Laila questo signori per un totale di 100 milioni di danno che però sono stati assorbiti per certi versi ok, che il totale sono stati 38, 48, 55 e qualche spiccio, 57 milioni in tutto fra una cosa e un'altra, quindi andiamo a vedere come è andata la run e perché abbiamo utilizzato questo lo mettiamo a per uno così almeno commentiamo nel mentre allora, la logica, il DPS che vogliamo è Wukong intanto prima di tutto questo perché Wukong facendo le copie, è una cosa che mi ero accorto già sul test server Wukong con le copie permette all'interno dello scudo della bestia a dente di fare veramente tantissimi danni perché il problema di fondo ragazzi è che noi abbiamo un totto di tempo e abbiamo delle finestre di tempo dove la bestia non ha lo scudo ma per quasi tutto il tempo ce l'ha e quindi il danno pieno lo prende soltanto quando stiamo dentro allo scudo fuori dallo scudo non infliggiamo abbastanza danni questo prevalentemente ci preclude l'utilizzo dei DPS classici che possono essere Shemira e Belinda quei mage che tenuti da fuori e fatti seguire da Rosalind fanno il delirio ho provato anche con Shemira e il massimo a cui sono arrivato è il 90% questo potrebbe anche essere legato al fatto che sono al 247 o 248 del cristallo risonante quindi la bestia a dente si cappa ad un certo livello e quindi non avendo Rowan magari ascesa faccio molta fatica a poter boostare con la ulti varie volte andremo a vedere anche altre team comp ci faremo un attimino un'idea di come può funzionare e come no però prevalentemente questa team comp che è una team comp che come vedete ho utilizzato Laijelaila Elite, Baden Elite più, Wukong Elite più, Rowan Leggendario, Rosalind Asceso che è l'unico personaggio insomma diciamo un pochino più alto di tier però parliamoci chiaro stiamo parlando di una team comp marcissima al mio livello diciamo perché comunque stiamo parlando di 248 dove in teoria i personaggi che andiamo ad utilizzare i boss che andiamo a faceare prendono in considerazione che uno abbia la team comp completamente ascesa invece no come vedete a 12 secondi dalla fine riesco a fare il 100% senza troppi problemi e questo come vediamo velocissimamente l'equip e l'artefatto che abbiamo messo sui vari pg allora su Rosalind abbiamo messo la grazia perché non avevamo modo di fargli fare altro danno in realtà devo essere sincero perché altrimenti gli avrei messo qualcosa dps su Wukong ho messo l'equip di Lucius con la spara in modo che facesse perché è il maggior dps di questo team quindi la spara, la lama di dura permette di staccare attacco in continuazione e quindi di fare sempre più danno poi ho messo Baden con il calice perché ha bisogno di sopravvivere e Baden ce l'ho messo ragazzi avrete già visto qualche video se non l'avete visto ve lo metto qui sopra su come massimizzare i danni di Vritz, come giocare contro Soren ecco questi Baden è fondamentale per fare queste cose per quale motivo? perché con... vediamo se... ok ecco perché con l'assalto spettrale quando Baden o il suo fantasma usano questa abilità il danno alle catamiche aumenterà del 10% per 7 secondi ed è staccabile per 5 volte quindi questo cosa significa? che noi potremo ottenere come avete visto dal video cioè dal replay di prima all'incirca 6 fantasmi fra una cosa o un'altra tra ulti e varie altre skill prima che svaniscano quindi riusciremo ad avere 7 personaggi ad avere quasi sempre il 50% se non sempre fino a che non muoiono tutti i personaggi di 50% di danno bonus sul boss quindi è chiaro che in una sfida a tempo Baden si rivela essere un ottimo personaggio un'ottima risorsa e gli abbiamo messo appunto il calice e tutti gli equip migliori insomma quelli che ho addosso a Fox quando gioco in campagna per farlo sopravvivere il più possibile perché le sue copie fossero il più possibile performanti il calice cioè il calice sì la chiamata di dura su Rowan che adesso mi accorgo che non l'avevo equipata ops ok quindi addirittura cioè vi rendete conto che cioè giocandola addirittura senza equip siamo riusciti a portarla in fondo a fare anche il 100% Rowan troppo forte come personaggio e vediamo un po' chi manca Elijah e Laila che hanno l'equip di Shemira e l'occhio di dura per aumentare la velocità d'attacco del 15% e poi del 20% insomma io ce l'ho al 3 non tutti ce l'hanno magari però insomma per aumentare la velocità di attacco ogni volta che facciamo un critico per 3 secondi il critico con questo oggetto è molto alto sul personaggio poi insomma anche gli oggetti damage danno tantissimo critico andiamola a vedere velocemente se valore critico 54% che credo sia calcolato ok ok si fa tutto il bastone porca miseria ho sbagliato eccolo qua fa tutto il bastone come vedete 54% di partenza senza questo vediamo se influisce ok contava anche questo quindi abbiamo il 54% di chance di fare un critico che non è tantissimo con Shemira abbiamo la passiva che dà il 30% se siamo full vita quindi chiaramente riusciamo a fare molti più critici però con l'occhio di dura ci basta un crit ogni tanto per aumentare la velocità d'attacco in modo che abbiamo un effetto simile al calice alla chiamata di dura così che la gelare la tirino più velocemente la ulti e poi sfruttiamo la ulti di Elijah Laila che la conoscete già ce l'ha presentata varie volte il Condor è un personaggio Elijah Laila è il support più forte del gioco purtroppo non possiamo tirarlo su perché è un celestiale insomma per poterlo tirare su ci vuole veramente tantissimo e quindi sfruttiamo la sua ulti in modo da poter skillare più velocemente con tutti i personaggi e da farlo soffrire alle copie che vengono influenzate dalla ulti di Elijah Laila dell'attack speed della fretta e quindi fare molto più danno ora qui dei premi vi linko qua sopra il video il primo video che ho fatto sulla bestia dente sul test server per poter analizzare insomma quali sono le ricompense migliori se non che se non mi sbaglio nel video non c'erano esattamente dei premi che possono essere gli emblemi e poi anche gli equip di fazione questa realtà ragazzi è una cosa molto interessante perché a questo giro l'hanno messo a 7,50 che è un prezzo molto più ragionevole rispetto all'ultima volta e come vedete invece di comprare un eroe volendo potremmo comprare un equip a scelta e vi dico la verità sono un po' in difficoltà forse prenderò l'equip perché ho dei personaggi che sono veramente messi male e potrebbe aiutarmi molto di più comunque andiamo a vedere anche qualche altra team comp vediamo allora questo gufo che l'avete visto in vari video lui utilizza Lordsan e Brutus e questa è un'altra team comp abbastanza user friendly se non per Elijah e Laila e questo Brutus era l'unità che avevo provato a usare per fare il 100% nel test server con la quale ci sono riuscito però per esempio sull'official con Brutus non ce la facevo evidentemente ha fatto seguire Brutus ok si da Rosalind per tirare più ulti e questa è praticamente la team comp si basa esclusivamente sul fatto che Lordsan busta di tanto il danno delle ulti e quindi noi sfruttiamo Rowan e Elijah e Laila per far tirare un milione di ulti a Brutus e poi con Rosalind per l'appunto raddoppiamo le ulti che tiriamo e anche l'attacco viene aumentato grandemente e quindi riusciamo a pushare abbastanza bene i danni ora vedremo un attimino a che punto finirà però penso che a questo punto verso i 15 secondi che fa più danno rispetto alla mia team comp è studiato cioè Brutus fa molto di più rispetto si infatti no ok a 12 secondi come avevo fatto io più o meno addirittura qui è Rosalind quella che pusha più danno di tutti allucinante però Gufo è a un punto diverso della campagna a tutti i personaggi al 180 quindi con Shemira al 220 se non mi sbaglio quindi siamo in un momento anche diverso vediamo un altro giocatore creato che utilizza anche lui Lord Sun con Shemira questa volta e qui addirittura abbiamo Rosalind che fa tutto il lavoro se non mi sbaglio eccolo qua il trucco prevede perché c'è anche una guida su internet il trucco di mettere Shemira in posizione 1 e Rosalind in posizione 2 prevede la possibilità di tenere Rosalind all'interno del cerchio è una sorta di bug tra virgolette per cui viene conteggiata all'interno dello scudo della bestia e quindi noi cosa avremo un hard DPS da parte di Rosalind e poi con Lord Sun boostiamo la finale insomma la ulti sia di Shemira che di in realtà c'è solo Lord Sun che tira un ulti dannosa perché poi Rosalind non ha il danno boostato dei piattini ma i piattini fanno talmente male che insomma non hanno bisogno di boost ecco il fatto per il quale ho scelto di usare Bukong è lo stesso per cui Rosalind riesce a fare tutti questi danni ragazzi Rosalind fa danno sulla vita con i piattini chiaramente fa molto più danno di Wukong perché Wukong può evocare tre copie insomma tre copie sono tantissime quindi danno triplicato quindi sfruttiamo con sia con Rosalind che con Wukong la possibilità di infliggere danno massiccio sulla percentuale della vita del boss come vedete comunque Wukong mena veramente tanto fa meno danni lì per lì però una volta che siamo riusciti a far tirare le copie dopo sono bei gli schiaffi perché con il randello per l'appunto che è l'unica skill che le copie possono usare oltre attacco base infliggiamo danno percentile sulla vita e facciamo veramente tanta tanta roba quindi possiamo concludere qua un video un pochino più veloce per analizzare questo evento che già abbiamo visto e per l'appunto vi invito un'altra volta a vedere il video sulle ricompense quindi io vi ringrazio di essere stati con me e vediamo un po' non abbiamo da dire altro sì ok quindi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sugli usciti dei nuovi video che ci sono si stanno smuovendo un po' le cose su afkarina quindi ci sono tante novità spesso anche una dietro quell'altra vi ricordo anche di iscrivervi al canale di telegram e alla pagina facebook alle due pagine facebook afkarina italia e sebg afkarina insomma che è la mia personale per richieste a me personalmente quindi possiamo concludere qua io sono sebg noi ci vediamo prossimamente per un altro video ciao